Salve a tutti! Con questo video voglio inaugurare la sezione di strumentazione del canale dove in pratica andrò a fare delle recensioni dei piccoli video di dimostrazione di utilizzo degli strumenti che andrò a comprare per il laboratorio. Iniziamo oggi con la recensione dell'XR2206 che sarebbe un piccolo generatore di funzioni, nello specifico riesce a riprodurre un'onda quadra, un'onda piccolare e un'onda sinusoidale nel range di frequenze che va da 100 Hz a 1 MHz. E' uno strumentino molto economico, io l'ho pagato all'incirca 7€, prezzo basso soprattutto dovuto al fatto che è disassemblato come potete vedere, quindi necessita di essere saldato prima dell'utilizzo. Quindi quello che adesso andrò a fare sarà saldare tutti i componenti sulla scheda e poi assemblare tutte le sue parti. Dopodiché faremo qualche misurazione con l'oscilloscopio delle forme d'onda che riesce a generare per vedere appunto la qualità, le prestazioni di questo generatore di funzioni. Ho ultimato la saldatura della scheda e l'assemblaggio del generatore di funzione ed ecco qui come si presenta. In teoria queste diciamo questo rivestimento marrone è adesivo quindi andrebbe tolto però considerando diciamo l'arredo del laboratorio penso che lo lascerò così perché diciamo per design questa volta lo voglio lasciare con questo colore legno. Per quanto riguarda invece le misurazioni che adesso andremo a effettuare, allora possiamo vedere che le frequenze di lavoro di questo generatore di funzione vanno da 1 Hz a 1 MHz, mentre per quanto riguarda le forme d'onda che riesce a simulare abbiamo che in uscita troviamo un pin di onda quadra, quindi su questo pin generale uscirà sempre una PWM al 50% di duty, quindi un'onda perfettamente quadra, mentre su quest'altro usciranno un'onda sinusoidale e un'onda triangolare a seconda di come andiamo a settare questo pin qui. Quindi quello che adesso andremo a fare sarà prima vedere come funziona con l'onda quadra in tutto il range di frequenza e poi andremo a vedere quindi rispettivamente anche l'onda triangolare è l'onda sinusoidale. Ho connesso il generatore di funzione all'oscilloscopio e ho settato il range di frequenza al minimo ovvero fra 1 Hz e 10 Hz e sono sull'uscita a onda quadra ed ecco quello che possiamo osservare ovvero che effettivamente l'onda quadra in uscita anche in questo caso variando di fino alla frequenza vediamo che in effetti riesce a raggiungere i valori riportati ovvero addirittura adesso siamo sotto 1 Hz e quindi un valore adesso andiamo al massimo riusciamo ad arrivare ecco qui fino a poco sopra 10 Hz quindi siamo a 19 Hz in questo momento. Mentre andando a cambiare adesso sul pin più alto ovvero fra 65 e 1 MHz ok adesso diminuisco la scala dei tempi ecco qui siamo a 1 MHz e 25 ok l'onda quadra non è più un'onda quadra però il t-rise e il t-fall rientra ad occhio così rientra in quello dichiarato in quando era dichiarato sul datasheet che aveva un t-rise e un t-fall di circa 100 nano e come si può vedere in effetti adesso siamo a 100 nano di visione ed è coerente con quando scritto mentre adesso provo ad abbassare un po' la frequenza e quindi il tutto migliora quindi l'onda quadra la fa piuttosto fedelmente anche se c'è un piccolo problema di offset in quanto come si può vedere non arriva perfettamente a 0 perché lo 0 è qui mentre ci sono quasi 2V di offset sto alimentando con 9V in questo momento quindi riesce ad arrivare alla 9V quando è alto ma non riesce a tornare a 0 nella fase bassa resta intorno ai 2V ok adesso invece andiamo a provare sull'altra uscita ecco qua ho messo l'uscita dove adesso è selezionato l'onda triangolare non è per niente un'onda triangolare forse l'altitudine è un po' troppo eccessiva provo ad abbassare ok ok adesso incomincio ad assomigliare a un'onda triangolare diminuisco ancora si è un'onda triangolare però ha un bel problema di offset in pratica l'offset è intorno ai 5V quindi è un'onda triangolare questo è un bel problema è un bel problema metto l'accoppiamento di tipo AC in modo che possiamo almeno vedere se è coerente ok l'onda triangolare è piuttosto pulita ha questa ampiezza di più o meno un volta e mezzo però si si mantiene pulita però ha quel problema lì beh ora non sembra più una sinusoide a questa frequenza cioè non sembra più una triangolare ma sembra una sinusoide provo ad abbassare la frequenza eh si ha un bel problema vado nel range 1Hz 10Hz ok e anche qui ha il problema di offset perchè adesso sono ancora in AC neanche al minimo è una bella triangolare perchè si vede proprio come se fosse la carica e la scarica di un condensatore quindi non è più una retta ma è una sorta di esponenziale sono tratti di esponenziale ok cambio e vado sul sinusoide e penso che presenterà lo stesso problema si penso di si provo a mettere il DC eh si anche qui la sinusoide presenta un offset un offset un offset e poi addirittura va a tagliare eh questo non va per niente bene proprio per niente torno in AC ok diciamo che con un'altitudine di più o meno un volt a questa frequenza sembra una sinusoide più o meno intorno agli 8Hz sembra una sinusoide vado nel range massimo ok ok siamo a 1 MHz qui si può vedere che è più o meno fedele come meno ad occhio come sinusoide ha poi anche una diminuzione della tensione di uscita quando vado su in frequenza vedete ehm inoltre continua ad esserci quell offset eh anche se provo ad aumentare l'ampiezza si si ripresenta l'offset in quanto si non l'offset ehm taglia la sinusoide taglia beh eh questo e quando questo è quello che riesce a fare questo generatore di funzione molto bene quindi da quanto abbiamo potuto vedere questo generatore di funzione ha un problema di offset su tutte e tre le forme d'onda quindi sia sull'onda quadra che sull'onda triangolare che sull'onda sinusoidale inoltre per quanto riguarda l'onda quadra riesce ad arrivare fino a frequenze abbastanza elevata senza troppa distorsione mentre per quanto riguarda quella triangolare e sinusoidale sia a bassa frequenza che ad alta frequenza oltre che a un offset molto molto più elevato abbiamo anche la presenza di distorsione e di saturazione quindi diciamo che diminuendo l'ampiezza della della forma d'onda in uscita eh si riesce a migliorare quindi con basse ampiezze l'onda triangolare e l'onda sinusoidale assumono una forma più più coerente però c'è comunque un grosso problema dovuto a quell'offset quindi questo è il risultato possiamo dire che come generatore di funzione da 7 euro va bene ma come generatore di funzione in generale non va bene per niente l'unico rimedio che posso tentare per cercare di salvare l'onda triangolare e l'onda sinusoidale sarà quello di effettuare un disaccoppiamento dell'uscita vale a dire banalmente utilizzando un condensatore e poi ributtare il segnale di uscita in un amplificatore che riesca a reggere almeno le alte frequenze e quindi attraverso un circuitino che dovrò cercare di costruire andrò ad eliminare l'offset di quelle due funzioni specifiche mentre per quanto riguarda la distorsione e la saturazione lì non c'è niente da fare quella ce la teniamo molto bene per questo video quindi è tutto alla prossima